A quattro mesi dalla chiusura delle indagini preliminari, la Procura della Repubblica di Taranto deposita all'ufficio del GIP del Tribunale la richiesta di rinvio a giudizio nell'inchiesta per disastro ambientale a carico dell'ILVA. Riguarda tutti e tre i 53 indagati finiti nella lista del 30 ottobre scorso e tra questi rischia il processo anche il governatore della Puglia, Nichi Vendola, accusato di concussione aggravata e il processo rischia di vedere nella stessa aula la famiglia Riva e Vendola. Il 23 dicembre scorso il presidente della regione infatti non sono bastate oltre sei ore di interrogatorio nella caserma della Guardia di Finanza di Taranto per fugare i dubbi degli inquirenti su presunte pressioni che avrebbe esercitato insieme ai vertici ed un legale del gruppo Riva nei confronti del direttore generale di Arpa Puglia, Giorgio Assennato e del suo staff per far ammorbidire una relazione del 2010 sulle emissioni inquinanti del siderurgico. Oggi Vendola dice di provare dolore e tristezza per decenni a Taranto afferma nessuno ha visto niente troppi hanno taciuto io no per decenni gli inquinatori hanno comprato il silenzio e il consenso politico sociale dei media con regali finanziamenti subapalti e favori io no i miei collaboratori no infatti non siamo accusati di corruzione siamo accusati di essere stati compiacenti a titolo gratuito nei confronti del grande siderurgico accusati in un processo in cui tutti i dati del disastro ambientale sono il frutto del nostro lavoro. La richiesta di processo per i 53 indagati ora imputati non si discosta granché dalle 56 pagine dell'avviso di fine inchiesta. Poche variazioni e di lieve entità nei capi di imputazione più qualche ritocco agli illeciti amministrativi contestati alle tre società. In variate anche le 258 parti lese dalle emissioni inquinanti dell'ILVA individuate dalla procura per lo più proprietari di casa del quartiere Tamburi. A rischiare il processo anche l'ex assessore regionale alle politiche giovanili attuale deputato di Selle Nicola Fratoianni, l'attuale assessore regionale all'ambiente Lorenzo Nicastro ed il consigliere regionale Donato Penta Sugli a tutti accusati di favoreggiamento personale in relazione alla posizione di Vendola così come lo stesso assennato. Su Vendola Nicastro ha preso posizione responsabile nazionale in organizzazione dell'Italia dei Valori, il Luciano Pisanello il quale chiede che i due si sospendano dai ruoli ricoperti. Ancora rischiano il processo il sindaco di Taranto Ipazio Stefano, l'ex presidente della provincia di Taranto Gianni Florido e l'ex assessore provinciale all'ambiente Michele Conserva. E c'è la lunga lista del management del gruppo Riva che ha operato dal 1995 ad oggi.